buongiorno ragazzi eccoci con un nuovo video vi avevo promesso facevo una video recensione a questo posto dove siamo venuti questo weekend che purtroppo però non è andata molto bene perché come vedete sta piovendo io sto con ombrello e vogliamo andare oggi a vedere la sagra annemi sulle fragoline dinemi che sono famose ieri siamo stati alla sagra della rosticino abruzzese qui a marino faccio vedere un po il posto questo è un giardino privato questa è l'entrata si entra da qui è una casa i padroni abitano quella casa lì dietro vedete c'è posto per tre quattro due tre anzi due tre equipaggi siamo arrivati qui con la roulotte ho fatto retromarcia e l'ho posizionata lì allora questo posto offre tutti i servizi corrente acqua potabile carico e scarico quindi anche della cassetta ci sono due conti per scaricare pulire la cassetta qui e poi c'è un altro posto lì dietro poi c'è questa casettina a fianco con questo gazebo usufruibile nella casettina c'è il bagno e c'è il lavandino per lavare per lavare i piatti dice un piccolo bagno poi qui c'è un altro bagno con la doccia la doccia fredda mi ha detto che è gratuita noi non abbiamo soffredito della doccia però c'è anche la doccia calda a gettone faccio vedere i prezzi quindi un minuto e 15 0 50 poi un euro poi due euro fino a 4 minuti e 15 però c'è la funzione start stop mi ha spiegato che tu puoi comunque il pulsante di fermare l'acqua e quindi si può fare la doccia anche più persone e quindi questa è una cosa buona invece un camper stranieri e quell'altro van minivan camperizzato con i pannelli sempre che si sono inglesi niente guarda noi ci siamo trovati bene perché come stare a casa alla fine soltanto che questo un posto strategico perché oltre a stare tranquillamente il padrone mi ha lasciato le chiavi del cancello quindi noi ieri siamo usciti tranquillamente con la macchina siamo andati a fare le giri abbiamo comprato la pizza abbiamo mangiato la pizza ieri sera e poi siamo riusciti e siamo andati alla sagra della rosticino dove c'era il concetto della cover band dei queen sempre a tema rock ragazzi e poi siamo rientrati serata tardi abbiamo chiuso il cancello e siamo entrati i dollotti per dormire quindi molto tranquillo qui niente tra poco riagganciamo torniamo a casa perché come vi spiegavo volevamo andare a nemi per la sagra però non mi sembra a caso anche perché il medio dice che la pioggia va peggiorando un po in tutto in tutta la zona roma e latina così non è anche e niente vi lascio con questa breve video recensione il posto si chiama manu garden e l'ho trovato su park for night e però si è anche su cara maps dove troverete anche il numero di cellulare ha il prezzo a notte 25 euro quindi a due passi da roma a due passi dai castelli romani questo lo consiglio per chi vuole venire a vedere questa zona la capitale e tutte tutti paesi attorno che sono bellissimi ok ragazzi vi saluto e al prossimo video video mi ricordo di iscrivervi al canale e sul gruppo facebook per qualsiasi cosa contattatemi o scrivete nei commenti ciao ciao